Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi coloreremo la pasta, io ho il colore verde e Federico ho il colore rosso. Ora cucineremo la pasta e poi la coloreremo. Ora faremo tutti i passaggi. Ragazzi, per prima cosa mettiamo la pasta nella testa. L'acqua. Con l'aiuto di un genitore accenderemo il fuoco. Abbiamo acceso il fuoco, ora butteremo la pasta. Ora prepareremo i colori. Ora prepareremo i colori. Ora buco. Ora buco. Ragazzi, ora butteremo la pasta. Ora sì, se faccio il mio cuore. Cuore un canale. felice che colore c'hai tu il verde fede rosso e mattia blu e l'altra c'è anche il viola e poi non c'è nessuno o ragazzi come bella questa pasta è stupenda ragazzi ma dopo chi lo mangia questa pasta la pasta di spider man perché con spider è di questo ragazzi ora non è che la facciamo così poca ora la metteremo nella sotera e la cucineremo e ce la diamo tutti quanti uguale la pasta ciao 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 fede dai mettici ingredienti dove sto? dove lo metto? nella pentola vai tutto oh mio mio pronta assaggiamo facciamo vedere questo capolavoro aspettate vai fede assaggia com'è? buona fede com'è? buonissima quindi lo consigliate di farlo? no ragazzi ora lo sapete che mi metterò in dentro si se ne sono accorti matti assaggia com'è? com'è? bombo ok quindi la potete fare tutti se volete la ricetta contattate felice federica e mattia e ve la daranno ciao a tutti ciao a tutti